La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione sulla risoluzione Cicchito Reguzione Moffa numero 60096 sulla cui approvazione il governo ha posto la questione di fiducia. Votanti 617, maggioranza 309, hanno votato sì 316, hanno votato no 301. La Camera approva. Ricordo che la conferenza dei presidenti di gruppo è convocata al termine della seduta presso la sala dei ministri. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà al termine della riunione della conferenza dei presidenti di gruppo. A seduta è sospesa. Silvio Berlusconi ha ottenuto la sua 51esima fiducia con 316 voti. Ed è scoppiato il caso dei radicali che, si mormora abbiano stretto un accordo con il guardasigilli Francesco Nitto Palma per far mantenere il numero legale. Intanto Berlusconi premia i suoi fedeli. Katia Polidori, ex Finiana e Aurelio Misiti, ex di Pietrista, saranno rispettivamente vice ministro allo sviluppo economico e vice ministro alle infrastrutture.